Si parlerà di geobiologia, inquinamento elettromagnetico e smog provocato da cause naturali e cause tecniche durante la conferenza che si terrà lunedì 24 ottobre alle ore 18 presso i locali del circolo nautico Il Corallo Mimmo Marchica di Sciacca. A relazionare, oltre al presidente del circolo Franco Galluzzo, il tecnico biorriposo Ismaele Schirato e il geobiologo Salvatore Avanzato. La geobiologia è una scienza che studia l'interazione tra le forme di geopatologie, quindi geo significa terra, quindi queste forme di geopatologie che vengono emanate dalla madre terra e che possono essere emanate direttamente dalla terra per la presenza anche di materiali o di faglie oppure di corsi d'acqua e poi ci sono quelle che vengono riflesse dai raggi cosmici e da tutti i pianeti che mandano questi raggi che trovando terreno impermeabile ritornano verso sopra. Quindi è l'interazione tra queste forme di nocività che vengono poi a essere caratterizzate dalle situazioni legate ai nodi di Artiman e nodi Kerri e tutte le forme diciamo di geopatologie che possono esserci negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita. Si parlerà quindi anche di inquinamento elettromagnetico, quali sono le cause di questo tipo di inquinamento? Allora l'inquinamento elettromagnetico ormai è risaputo che l'elettrosmog diciamo tutti sappiamo che queste forme di nocività diciamo artificiali perché prodotte da apparecchi che possono essere gli impianti elettrici, non so i cordless, possono essere anche i wireless oppure i grandi cavi degli elettrodi. Queste sono delle forme che arrivano costantemente dove noi svolgiamo il nostro lavoro e anche negli ambienti di vita. È ovvio che questo elettrosmog per quanto riguarda il discorso dei luoghi di lavoro è regolamentato da una legislazione ad hoc, tant'è che nell'ambito della mia professionalità come RSPP ora dal 2 di settembre è entrato in vigore un nuovo diciamo una direttiva europea e quindi abbiamo l'obbligo di andare a valutare il rischio che corre il lavoratore per quanto riguarda i cappi elettromagnetici. Però dobbiamo pure considerare che all'interno dei luoghi di vita, perché ci sono in tutti i luoghi di vita ma anche all'interno dei luoghi di lavoro, vengono a sommarsi queste geopatologie. La conferenza ovviamente è aperta a tutti, ricordiamo a tutti l'appuntamento? L'appuntamento è per lunedì 24 alle ore 18 al Circolo Nautico.